segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te giovani e che poi possono fare figli intanto non è vero è sbagliato anche questo perché i dati non sono studiati bene il tasso di fecondità delle donne spagnole 1,23 e il tasso di fecondità delle donne italiane è 1,24 quindi si fanno meno figli in spagna che in italia quindi sono tutti numeri ma l'ho detto io che se c'è una situazione di maggiore stabilità l'italia sta andando bene bisogna ammettere che l'italia sta andando bene ma non c'è nessun problema da mettere l'occupazione sale il pil sale e quindi bisogna andare bene sono sei mesi che sempre stanno arrivando le cavallette ma tutto bene i numeri non lo so da tu ti sentirai una cavalletta qui non abbiamo nessuna cavalletta io voglio capire una cosa però voglio sentire da voi una cosa perché un altro tema che